Palazzo Zevalos Stigliano Palazzo Zevalos Stigliano è stato realizzato dall'architetto Cosimo Fanzago nel 1639 come palazzo nobiliare. Da allora vi sono stati molti cambi di proprietà e diverse ristrutturazioni, prima suddiviso in appartamenti, poi sede della banca commerciale, infine ospitato le Gallerie Italia e la collezione del Banco di Napoli. Grazie.